Manuela Tulli, vaticanista dell'ANSA, è necessario soffermarsi e accendere i riflettori sull'uccisione dei bambini durante la Shoah? Perché si pensa sempre agli adulti? Sì, secondo me è importante perché è una storia che purtroppo si ripete, quindi averne potuto parlare con i giovani è stato fondamentale, ricordare quello che è accaduto 80 anni fa perché non accada mai più. Non accada mai più, purtroppo, quello che la storia recente propone, qualche mese fa, ha riportato alla ribalta di nuovo l'odio. Sì, assolutamente sì, come dice spesso Papa Francesco, è come se non imparassimo nulla dalla storia, ma questo non ci esime di tornare a parlarne, di riproporla, e di far, diciamo, dimostrare anche alle nuove generazioni quello che è accaduto, la violenza, ma anche gesti di amicizia, come nel caso della famiglia Ulma, che ha rischiato e ha perso la vita per aiutare un gruppo di amici ebrei. È solo una nostra sensazione o questo 27 gennaio è stato vissuto un po' a fari spenti? Non so, forse sì, diciamo che la guerra in Medio Oriente con le polarizzazioni da una parte e dall'altra non hanno aiutato, però secondo me invece ricordare quello che è stato la Shoah non può essere messo da parte mai, perché comunque è stato un eccidio che è andato veramente oltre ogni immaginazione umana. Terza guerra mondiale a pezzi, che vuol dire? Vuol dire questo fatto che i focolai si accendono ovunque, anzi adesso stiamo addirittura passando dalla terza guerra mondiale a pezzi a una guerra estesa, ci sono sì conflitti che sono sotto i fari dei media, penso all'Ucraina e penso al Medio Oriente, ma tante piccole guerre nel mondo e anche di questo vanno sicuramente sensibilizzate le nuove generazioni.